Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Xbox e PlayStation. Ma perché parliamo di queste console? Perché tanti di voi lo sapranno sicuramente, altri invece magari no, sia Xbox che PlayStation e parliamo delle versioni Xbox serie X, serie S e One, mentre per PlayStation, PlayStation 5 e PlayStation 4. Queste console hanno la possibilità ovviamente data direttamente dai costruttori, quindi Microsoft e Sony, di essere utilizzate in remoto. Quindi questo cosa vuol dire? Che le nostre console le possiamo utilizzare da ovunque noi siamo. Noi potremmo accedere alla nostra console, in questo caso Xbox, e giocare ai nostri giochi che abbiamo installato nella console dal nostro smartphone o tablet, utilizzando le applicazioni dedicate che ci vengono appunto rilasciate da Microsoft o da Sony. Quindi andando a installare nel mio caso l'applicazione Xbox nel mio iPhone, ovviamente l'applicazione disponibile sia per iOS che per Android, stessa cosa quella di Sony, abbiamo la possibilità di giocare con il controller che viene abbinato allo smartphone in Bluetooth alle console. Ma perché ho deciso di fare questo video oggi? Perché c'è un modo per giocare in remoto sui nostri dispositivi portatili che va aumentare di brutto la nostra esperienza di gioco. Cosa vuol dire? Che noi utilizzando lo smartphone lo andremo ad inserire in un supporto sopra al controller e potremmo giocare. Però ovviamente lo smartphone non ha un display di dimensioni importanti, quindi giocare su uno smartphone non è sicuramente entusiasmante. È vero che piuttosto di niente, meglio piuttosto, però è sicuramente molto molto limitativo. Però c'è anche la soluzione del tablet, che in quel caso se abbiamo un tablet è ovviamente tutto migliora, perché comunque le dimensioni di un tablet sono nettamente superiori a uno smartphone. Però quello che voglio invece farvi vedere oggi è che c'è una soluzione che è ancora migliore del tablet ed è ragazzi qualcosa di esagerato. Quando io l'ho provata sono rimasto ragazzi senza parole per quello che ho deciso di fare questo video, perché vi porto un modo di giocare da remoto davvero davvero allucinante. Che poi per esempio per Microsoft c'è anche la possibilità di giocare dal cloud, quindi anche se non si ha una console, è sempre su un dispositivo portatile. Anche in quel caso diventa davvero entusiasmante la soluzione che vi porto oggi sul canale. Comunque, andiamo con ordine. Allora, la soluzione per giocare in maniera entusiasmante e con un'esperienza di gioco allucinante se usiamo uno smartphone, ragazzi, è lei, la Drone Mask. Si chiama Drone Mask perché in realtà è stata convertita all'utilizzo dei droni, perché comunque pilotare un drone in FPV è tanta tanta roba, andando ad inserire lo smartphone nella maschera avremo la possibilità ovviamente di volare in prima persona. Ma se questa modalità di utilizzo la portiamo come ho fatto io nel giocare ai videogiochi, ragazzi, è pazzesco. Ma questo perché appunto abbiamo questa possibilità incredibile di giocare da remoto alle nostre console e giocare con una Drone Mask, ragazzi, è pazzesco perché comunque lei ha di fantastico la possibilità che qualsiasi applicazione noi abbiamo sullo smartphone diventa compatibile con lei. Lei non ha niente di tecnologico, lei non ha niente di elettronico, lei ha solo una lente che è fantastica, che è così. Vedete che è una lente praticamente unica ma ci crea, ragazzi, una qualità allucinata. Quindi andando a mettere lo smartphone qua dentro giocheremo da remoto, quindi da ovunque noi siamo alla nostra console, ma come se fossimo davanti a un maxi schermo con una risoluzione incredibile perché la risoluzione data da questo visore o meglio da questa lente che c'è all'interno di questo visore è quella che abbiamo nello smartphone. Quindi più lo smartphone avrà una qualità alta a livello di risoluzione, più lei ci trasmetterà ai nostri occhi una risoluzione alta. Quello che ovviamente non accade con i visori classici, quelli che troviamo normalmente VR che hanno la doppia lente, che va a diminuire di brutto la risoluzione del nostro smartphone e poi bisogna avere comunque delle applicazioni dedicate che in questo caso non avremmo perché né Xbox né Playstation ci danno delle applicazioni dedicate per quei visori e poi comunque avremo una qualità di risoluzione davvero scadente. Qua invece ragazzi è allucinante. Per chi usa questa esperienza di gioco, cioè di giocare da remoto quando è in vacanza, quando è lontano da casa e ha la possibilità di rilassarsi e giocare alla sua console che sta ovviamente a casa mentre lui da tutt'altra parte rispetto a dove abita è tanta tanta roba. Adesso faremo una prova anche se non posso realmente trasmettervi la qualità perché è impossibile, cioè non posso anche se riprendo con una telecamera qua dentro non si vedrebbe quello che realmente vedono i nostri occhi, quindi sarebbe una cosa senza senso, ma fidatevi ragazzi è come giocare davanti a un maxi schermo. In realtà stiamo utilizzando lo smartphone, quindi giocheremo alla nostra console come se fossimo davanti al nostro monitor, al nostro televisore, ma in realtà siamo davanti a un piccolo smartphone. Quindi per prima cosa ovviamente va installata l'applicazione, in questo caso Xbox, ma è disponibile anche l'applicazione Playstation ovviamente per chi ha quelle console, quindi basterà andare a inserire il nostro smartphone all'interno del visore, andiamo a chiudere la cerniera perché comunque questa nuova versione, questa versione 2 della Drone Mask ci permette di accedere allo smartphone con le dita, quindi anche se abbiamo chiuso il visore possiamo accedere con le dita, ma anche se dovessimo acquistare la prima versione o abbiamo già la prima versione a cui non possiamo accedere con le dita non è importante perché una volta che abbiamo aperto l'applicazione poi tutto si controlla dal joypad come avviene nel menu originale perché noi abbiamo il menu originale che abbiamo nella nostra console, non è un qualcosa di diverso, è lui che viene controllato da remoto, cioè da ovunque noi siamo controlliamo direttamente questo menu, per questo che vi ho acceso anche il monitor per farvi vedere che io sto controllando con questo sì quello che vedo all'interno del visore ma anche quello che ho qua in questo momento nel caso questo monitor fosse acceso, ma non è che per forse deve stare acceso, sia chiaro noi potremmo giocare da ovunque noi siamo col monitor spento, non è necessario che questo stia acceso, l'unica cosa che bisogna avere ovviamente una rete internet 4g o una rete wifi a casa quindi questo mi sembra abbastanza scontato. Quindi una volta indossata la maschera a questo punto non ci resterà che andare a prendere l'applicazione Xbox, ovviamente bisogna abbinare il controller tramite il bluetooth al nostro dispositivo, quindi al nostro smartphone, che ovviamente una volta abbinato non bisogna più abbinare perché verrà rilevato automaticamente. Quindi una volta aperta l'applicazione non posso farvi vedere la registrazione dello schermo dello smartphone perché comunque l'applicazione Xbox va a bloccare quello che è la registrazione dello smartphone e se utilizziamo questa applicazione quindi questo non posso farvelo vedere. Ma tanto adesso vedrete lì che io utilizzo da qua dentro e con questo controller quello che poi succede anche lì nel monitor, per quello che ve l'ho lasciato acceso. Quindi vado a aprire Xbox soggiorno che è la mia console, vado a selezionare gioca da remoto su questo dispositivo, mi chiede che devo avere ovviamente una rete internet wifi domestica e una rete ovviamente 4g se sono fuori di casa per utilizzare lo smartphone o il tablet e a questo punto il dispositivo va a connettersi. Perfetto, si è connesso, avete sentito il rumore, adesso io vedo nello smartphone quello che ovviamente ho lì, la stessa identica schermata, proprio lei, non è un'altra o una riproduzione diversa, è lei. Infatti io adesso muovendo qua, vedete muovo sia lì che qui. Se io dovessi adesso andare a far partire un gioco, supponiamo FIFA, ok, vedete che il gioco è partito. Io sto vedendo ragazzi qua come se fossi davanti a uno schermo grande, è come se fossi davanti a qualcosa di molto immersivo. Ho lo stesso identico menu che vedo qua. Se io adesso vado a fare calcio d'inizio, perfetto, adesso vado a selezionare tutto a caso, è giusto per farvi vedere, ok? Quindi lascio tutto così com'è, ok, perfetto. Io sto facendo tutto guardando qua dentro, e non sto vedendo, come vedete ragazzi, è davvero davvero impressionante, ma soprattutto è impressionante la qualità che abbiamo qua dentro. È di risoluzione incredibile, è come se stessi giocando davanti allo schermo, è pazzesco. È qualcosa di impressionante. Ovviamente poi con questo discorso del remoto, ovviamente varia poi in base anche la connessione che avete. Questo è un altro discorso, però questo è un discorso che è indipendente da quello che è l'esperienza di questo visore con il videogiocare, che è veramente, secondo me, un altro plus per questa maschera, che è qualcosa di incredibile. A questo punto ragazzi, io sto giocando e è pazzesco. È allucinante come abbiamo una qualità che riproduce quella dello schermo. È qualcosa di veramente, veramente incredibile. Adesso sto parlando, quindi non sto neanche capendo cosa sto facendo in realtà. Cioè, ragazzi, è qualcosa di veramente allucinante. Adesso alzo perché se no non riesco a parlare e giocare. Cioè, quello che però è difficile trasmettere, ovviamente, è quello che vediamo. Adesso io non so se facendo così qualcosa voi riusciate a vedere, vi assicuro che è qualcosa di pazzesco, di pazzesco. Adesso usciamo dal menu perché almeno non si sente l'audio. Quindi ragazzi, spero di avervi trasmesso cosa si può fare con un visore di questo tipo. Vi lascio qua sotto i link in descrizione nel caso vogliate acquistarlo, dagli un'occhiata. È un dispositivo che non costa poco, ve lo dico subito, costa intorno ai 150 euro, ma ci permette veramente di fare cose impressionanti. Cioè, non solo con Xbox o PlayStation, ma anche guardare video, film. Cioè, possiamo veramente fare di tutto con questo visore perché nessuna applicazione ci limiterà nel farlo. Perché comunque lui riprodurrà tutto quello che vediamo nel nostro smartphone. Quindi non c'è bisogno di nessuna applicazione dedicata, ma qualsiasi cosa il nostro smartphone ci trasmetterà nel suo display. Qua lo vedremo, ragazzi, con una qualità incredibile e con dimensioni molto, molto maggiori rispetto, ovviamente, allo smartphone. E in più, questo video serviva anche per informare chi già non lo sapeva di queste funzioni che hanno le nostre console che sono sia Xbox che PlayStation, di giocare da remoto direttamente alle nostre console che abbiamo a casa senza nessun costo aggiuntivo. Basta installare le loro applicazioni dedicate, prodotte da Microsoft o da Sony. Questa esperienza che si può avere utilizzando questo tipo di visore, perché solo lui, solo la Drone Mask, ha questa lente, solo questo prodotto ha questa lente. Nessun altro visore che trovate su Amazon o su qualsiasi altro store ha questa lente, con questa qualità e soprattutto con questa, diciamo, compatibilità con tutto, perché non serve nessuna applicazione dedicata. Quindi, se questo video lo avete trovato interessante e utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, due posti antissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube, per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial come questo o una novità. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video